saremo sicuramente in italia con tanta grinta con tanta determinazione siamo contenti delle ultime due settimane tutte le belle prestazioni però sappiamo che non sarà abbastanza questa settimana contro sudafrica quindi dobbiamo alzare un pochino di più il livello sicuramente dei punti di incontro in difesa però siamo positivi ci crediamo andremo avanti così sicuramente primo mondiale per tanti giocatori un po di ansia un po magari un po settimane senza aver giocato quindi tutti quanti volevano entrare in campo e mostrare quello che potevano fare quindi sicuramente c'era c'è stato un po di differenza tra namibia e canada però sì anche anche se abbiamo giocato male contro namibia abbiamo fatto sette mete potremmo farne anche non il doppio però potremmo farne una decina quindi quello lì sicuramente c'è dato anche un po di confidenza entrando anche contro il canada e lì secondo me abbiamo fatto veramente una bella prestazione con calma fatto le cose giuste al momento giusto è andata molto bene sicuramente siamo più più confidenti abbiamo più confidenza nel nostro attacco abbiamo lavorato anche tre anni in più insieme quindi ci conosciamo molto di più come giocatori quindi si vede anche che la squadra è molto più unita rispetto magari a tre anni fa sappiamo che anche sudafrica cambiato da tre anni fa quindi sono un'altra squadra rispetto a quella che abbiamo battuto a firenze quell'anno però sì come detto prima abbiamo fatto i nostri compiti sappiamo cosa vogliamo fare basta adesso mostrarlo venerdì in campo sì è stato diciamo sicuramente è una soddisfazione di prendere a far parte del gruppo se in azioni si non era andato proprio per il meglio per me comunque essere poi comunque convocato nella squadra allargata per la preparazione e poi arrivando fino anche alle amichevoli il mondiale io comunque ho lavorato duro ho dato insomma mi sono messo messo in mostra ho cercato di dare il meglio di me e poi sì è stato anche premiato quindi sono contento la partita con il sudafrica è sicuramente sempre rimasta un po diciamo nella mente di tutti insomma abbiamo preparato namibia e canada ma penso che comunque gli allenatori stessero già anche comunque provvedendo a preparare la sfida col sudafrica che richiede un po più di attenzione magari di portare anche qualcosa di nuovo in campo noi non non penso cambieremo tanto quanto più cercheremo sì ovviamente qualche giocata in base alle loro caratteristiche in base a quello che che propongono loro ma io penso che la cosa principale sarà che dovremmo limitare gli errori il più possibile sono squadre di diciamo di prima fascia mondiale che se c'è una cosa che sono brave a fare è quello di non perdonati gli errori quindi concretizzare alla prima opportunità una palla persa un in avanti una penalità sono comunque cose che subisci e a fine partita pesano sul sul tabellino e più precisi sicuramente fisici e dovremmo essere impeccabili e sudafrica è cambiato ma siamo cambiati anche noi siamo pochi quelli rimasti da quel novembre e di sicuro abbiamo avuto degli innesti di giovani molto molto buoni e abbiamo anche avuto modo secondo me di consolidare un po più il nostro gioco in attacco e alla fine le cose sono abbastanza le stesse sono cambiati un po giocatori ma devo dire che l'ossatura è rimasta insomma tra staff e comunque i giocatori veterani la stessa e tutti stanno comunque lavorando duro per 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 prendere al meglio insomma il ritmo il ritmo della squadra il piano di gioco e cercare di fare il meglio a